Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti su Exoteric World, io sono Andrea questo è la scopo settimanale dal primo al 7 aprile, approfitto subito per fare gli auguri a tutti gli arietini che compieranno gli anni proprio in questa settimana tantissimi tantissimi auguri, vi ricordo prima di iniziare che è una stesa generalizzata che se volete potete integrarla con il vostro ascendente cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli sempre in descrizione trovate i link per vedere la playlist e conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana inoltre vi ricordo che sempre in descrizione trovate i link per contattarmi e per prenotare un consulto e chiedermi informazioni negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello lunare e quindicinale adesso siamo pronti per iniziare la vostra stesa con le prime indicazioni delle nostre Lenormand che ci parlano con questa scopa e frusta e della lettera di qualche momento di tensione che potrebbe arrivare tramite una notizia tramite delle informazioni o qualcuno che vi dice qualcosa possono essere delle informazioni che magari non vi interessano non vi piacciono più di tanto possono essere anche dei ritardi perché state aspettando delle notizie delle informazioni utile però in tutto ciò comunque dovete sapere che alcune cose devono essere attenzionate altre devono essere valutate magari questa potrebbe essere l'indicazione giusta di fare un po' di attenzione allo stress al nervosismo al cercare piuttosto un compromesso in un confronto se poi non si può fare a meno di litigare ma almeno di cercare il più possibile di ottenere ovviamente dei risultati vediamo cos'altro vi voglio dire perché non tutta la settimana sarà così probabilmente abbiamo iniziato con un messaggio che vi può essere utile magari nel corso della settimana invece altre indicazioni arrivano proprio dalla signora Barre in questo caso numero 8 e poi abbiamo il battello o la nave questo bellissimo cavaliere e beh qui si vede una bella spinta una progressione qualcosa che procede finalmente nel verso giusto questo può riguardare qualsiasi ambito della vostra vita magari potete già con queste informazioni rintracciare l'ambito preciso cioè qualcosa che finalmente si rigenera si comincia ad andare avanti a progredire però dopo aver passato e superato un momento di trasformazione di evoluzione oppure dalla conclusione di un qualcosa e quindi c'è finalmente questa chiusura di questo ciclo di un'esperienza di un compito di un qualcosa che avete fatto ed ecco che si riparte belli pronti e carichi c'è più entusiasmo c'è l'arrivo di situazioni sia idee vostre a livello personale sia anche di novità che appunto vi daranno proprio non solo la carica giusta per affrontare le vostre cose ma anche per ripartire poi la carta del viaggio vuol dire tantissime cose cioè a livello spirituale, livello interiore attuare un cambiamento, un miglioramento nella vita pratica, seguire un'avventura viaggiare veramente magari qualche piccolo spostamento ci può stare i segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci pochetto ci sono anche quelli di aria, cioè le bilancio acquario gli altri che non ho detto non è che non avrete a che fare che più o meno le cose sono già come le conoscete quindi non ci sono grandi grandi cambiamenti andiamo a vedere l'ambito amore di questa settimana partiamo dalle coppie poi vedremo i single e poi andremo a vedere l'ambito lavoro la gelosia, il nemico e il militare parla di situazioni che possono essere un po' conflittuali dico sempre che quando escono carte di un certo tipo sia positive sia negative in realtà non è che tutta la settimana andrà così in questo caso magari loro vogliono portare la vostra attenzione su qualcosa di importante cioè la gelosia può riguardare sia la vera e propria gelosia magari qualcuno che si intromette, non necessariamente un rivale o una rivale no, non è detto, però può anche essere che voi abbiate dei sospetti al riguardo altrimenti essendoci anche la carta del nemico, del militare ho di più quella sensazione che sia qualcosa legato ad agenti esterni a situazioni che possono essere difficili e conflittuali trovare un accordo, un'intesa o dei contrattempi magari vi siete prefissati alcune cose per voi stessi e dei vostri spazi, delle vostre cosine estremamente personali e allora ci sarà qualche contrattempo quindi sarà difficile gestire alcune situazioni però appunto cercate magari di capire se bisogna contrastare e lottare contro qualcuno o qualcuna oppure magari questo nemico che vi dà fastidio potreste essere addirittura voi stessi perché magari siete abbastanza nervosi o può essere molto nervosa l'altra persona e va a riflettersi nella coppia o come vi dicevo magari sono situazioni esterne che vi danno un bel po' da fare e di stress invece per chi è single parliamo attraverso il messaggero Gran Signore Belvedere di una bella settimana bella settimana positiva perché il messaggero è sempre portatore di novità di magari qualcuno che si fa sentire a volte da lontano nel senso qualcuno che non sentivate da un po' di tempo l'arrivo di notizie comunque è quello che vi serve sapere in generale spostamenti è vero l'abbiamo visto sin dall'inizio magari alcuni di voi proprio si stanno spostando magari hanno preso delle vacanzine per la Pasqua oppure delle gite mi viene in mente anche appunto che c'è il primo la famosa Pasquetta quindi cose di questo tipo è molto probabile ci possono essere degli incontri interessanti si può prospettare o un'amicizia da coltivare oppure anche un qualcosa che può passare ad uno step successivo quindi occhio e orecchie ben aperti sono cose interessanti e giustamente quello che vi vogliono dire è che non tutti ovviamente vivranno le stesse cose c'è chi incontrerà magari una persona o sentirà una persona che non vedeva e sentiva da un po' di tempo chi magari anche vedrà e conoscerà nuove persone comunque ci sono cose stimolanti per tutti adesso infine andiamo a vedere l'ambito lavorativo quello più materiale dove ci sono le indicazioni del denaro sponsali e allegria ottima situazione perché soprattutto quando esce la carta degli sponsali parla di cambiamenti importanti forse voi state già cercando di mettere in moto qualcosa denaro positivo cioè legato a consolidare i rapporti di affari cercare di conseguire appunto delle cose vantaggiose di farsi magari aiutare in qualsiasi caso cioè che voi stiate avviando un progetto state portando avanti il vostro lavoro c'è una bella carica, c'è un bel entusiasmo siete probabilmente supportati e aiutati questa carta inoltre poi essendoci anche l'allegria vuol dire unione perfetta, intesa e non solo, anche notizie interessanti sia per nuovi progetti futuri sia per cercare degli accordi nuove intese, nuove proposte che appunto devono essere valutate soprattutto se state cercando un nuovo nuovo lavoro magari appunto procede tutto bene tra virgolette per chi ce l'ha già ma ancora meglio proprio per chi vuole fare un cambiamento cioè per chi non si trova più bene allora queste sono novità in arrivo che in qualsiasi caso vi daranno gioia vi daranno fiducia e daranno fiducia soprattutto anche magari per chi sta aspettando del denaro che vi deve arrivare oppure di stringere accordi per nuovi investimenti quindi questa in realtà potrebbe essere proprio la settimana giusta per avviare un nuovo progetto un nuovo proposito cercare accordi, mediazione e anche per non solo per ottenere degli ottimi risultati e quindi direi che è una bella settimana molto positiva e costruttiva per voi finisce qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita se volete qui in alto trovate il logo per iscriversi al canale mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare e quindicinale alla prossima vi auguro una buona settimana ciao